E allora, vi dicevo che ci stava questa scena che io ho giocato direttamente in prima persona ed eravamo a Call of Duty, con la mia squadra che stava brutalmente perdendo e a un certo punto io stavo soccorrendo il mio compare e poi da dietro, sfondo al muro, un carro armato e mi fu fuori C'è qualcosa che non sapevo Perché, scusami? È molto triste Sì, molto Sì, ma non è quello il fatto è che in Call of Duty non ci sono i carri armati E lo peggio, pazzo Questa è la droga E allora sarà stato Battlefield o... Poi c'è da Cranker Ma ci sono Sì, secondo me è anche Battlefield Ci sta, anche perché questi giochi non ci sono ancora Infatti... No, raga, non è che possiamo spegnere Ma abbiamo appena iniziato Non si vede il motivo Beh, il motivo c'è, è il 30 dicembre, domani è capodanno Magari potremmo anche... Ah, partita finita Che cosa fare? Che giorno è? Dicembre, 30 dicembre Abbiamo iniziato l'agosto a giocare Era il mio compleanno Ragazzi, io avrei detto che... Ecco perché pulso Era il caso E comunque, cosa facciamo a Capodanno? Io lavoravo Lavoravo Allora, per quanto riguarda Capodanno Basta che non facciamo come l'anno scorso, ragazzi, davvero Cosa ho fatto l'anno scorso? 5, 4, 3, 2, 1 Ammori 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 Pronto Pronto? No, no, sì Sì Mi prende un cazzo Mi prende un cazzo Prendo un cazzo Non prende un cazzo Ehi, ciao, scusa ti mando la nota locale perché qui c'è troppo casino Comunque sti cazzi, grande Capodanno, mamma mia che cosa Prende un cazzo Ciao mamma Se tipo andassimo al bullying Che stanno Il bullying a Capodanno Avete arrotolato delle palle? Ne vedo già abbastanza in questa casa di palle, chiaro? Questo è gioco si lucerano di ora Eh, discotetta? Allora, in discotetta a Capodanno ci sono soltanto Cessi e single, non mi sembra il caso Sì, e poi le poche miss che ci sono una cosa sicura Vabbè, raga, decidete voi, sicuro Ma, raga, allora, ma se facessimo qualcosa in casa Tipo Alcol a fiumi Invitiamo due o tre ragazze che conosco io O costicchiano, però Cioè, sono figlie Conosco il genere di ragazze che frequentano Eh, ma Che bene Malvagio lo sono Sì, poi io mi annoio perché non ci sono uomini Non ho niente da fare Ma questo è un tuo problema Vabbè Vabbè, ragazzi, fiatemi di me Ci penso io, sarà un Capodanno spettacolare A vento, eh A vento Sì, io me la segno questa Mi vedo L'ultima volta che vorrei voluto Amore, amore, amore Buon anno, buon anno, ragazzi Amore, amore, buon anno Buon anno, buon anno Buon anno, buon anno Sì Che amici di merda Buon anno, buon anno, buon anno Grazie.